Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo Michael Leonardi, benvenuto! Grazie mille, è un piacere di essere qui Allora, raccontaci un po' la tua storia, nel senso che tu sei italiano di origine, però i tuoi nonni sono emigrati in Australia Questo è vero, questo è vero, sì, sono nato proprio sulla spiaggia con i canguri, ecco, perché mi vedi sempre saltando Però, sì, i miei origini sono proprio siciliani, quindi ho sangue un po' bollente delle volte, però sono molto orgoglioso di questo fatto Invece qual è l'aspetto australiano che hai? Eh, non lo so, perché non sono biondo, con gli occhi azzuri, quindi è difficile No, forse questo, cioè, quando esci di casa, a casa mia in Australia, sono tutti rilassati Allora andiamo in spiaggia, ok man, no problem Quindi è una roba un po' così Mi piace questo aspetto australiano Eh sì, è bello, sì, è molto rilassato Magari ti serve per questa settimana Sanremese Infatti mi sta sov... come si può dire, mi serve tanto, perché sì, sono molto calmo, anche se non... se non... se non sembro, però... dentro sono molto calmo Raccontaci di questa tua bellissima canzone Guarda, Rinascerai è veramente un brano, sinceramente, vicino al mio cuore, perché parla proprio a voi donne Che l'ho scritto originalmente in inglese, che si chiama White Rose, non lo so, un simbolo della purezza Quindi abbiamo fatto questo adattamento italiano, che è veramente un'esplosione di speranza e salvezza musicalmente e poi nel testo, quindi spero che... quando... che si sente questa cosa, che è molto... sì... veramente parla al cuore e proprio alle donne E il... insomma, tu canti benissimo, lirica, no? Ma hai fatto un percorso, sei un'autodidatta Sì, infatti... quando canto o quando scrivo, per esempio, porto tutto il mio... mio passato con me, praticamente, che ho cantato rock, pop, jazz, una banda e poi in teatro, facendo musical e anche la lirica E quindi, sì, sì, si sente nella voce che ci sono tutti questi mix di genere e quindi per me la musica non ha limiti, quindi perché no? Facciamo questa bomba di musica, questo mio stile, insomma Tu sei della Scuderia Sugar, Caterina Caselli Sì L'incontro, il primo incontro con lei, com'è stato? La Caterina è incredibile, è veramente una persona... umile, favolosa E comunque io ero in Italia l'anno scorso, lavorando con alcuni produttori E ci siamo incontrati con la Caterina, è nato quest'amore E praticamente noi siamo... abbiamo un rapporto molto bello, un amore per la musica E quindi noi ci sentiamo spesso durante il giorno, parlando proprio delle cose artistiche Quindi è una bellissima cosa di avere in casa discografica perché possiamo sempre, diciamo, sviluppare nuovi brani, nuove idee Quindi sono fortunatissimo, veramente Michael, grazie mille di essere stato con noi Decidi tu, in italiano e in inglese saluta gli amici di Radio Bruna Ok, per una volta faccio una cosa in inglese, così... così non sbaglio più la lingua Devi tradurla, eh Va bene, va bene A big hug from Michael Leonardi a Saremo Infatti lo faccio in italiano perché poi da natura... Ormai sto diventando proprio italiano Un grande saluto a tutti gli amici di Radio Bruna, sono Michael Leonardi Qui a Saremo con il brano Rinascerai Ciao a tutti Radio Bruna